Ciao ragazzi, benvenuti alla quinta lezione del corso dei segreti di YouTube, il podcast. Oggi vi sto bevendo un caffè con voi. Quindi uno dei segreti di YouTube è organizzare le playlist. Perché questo è uno dei più sottovalutati segreti che non vi dicono. Non ci sono neanche dei corsi in inglese, perché io ragazzi non è che il corso me lo sono inventato. Io ho fatto dei corsi in inglese, prima, e vari. Anzi stavo pensando di fare un nuovo corso che stanno dicendo che è il migliore del momento. E abbiamo delle cifre. Nel 2022 eravamo a 30 milioni di persone che hanno trovato un full time job in YouTube. Nel 2023 sono cresciute, siamo a 200 milioni di persone che stanno lavorando full time su YouTube. Quindi da 30 milioni siamo a 200 milioni. Spero anche io di poter parlare come se anche io ho un full time job. Comunque è uno dei miei sogni. Per questo che sto facendo anche questo corso che è emerso dopo vari canali. Una ventina, il più di successo aveva 185 mila iscritti. L'ultimo di successo aveva 70 mila iscritti. E ho fatto 45 mila iscritti in un mese. Quindi io ho accorpato tutti i segreti tra i corsi e le mie esperienze. E' nato questo podcast. Quindi uno dei segreti più sottovalutati che non parlano nemmeno gli inglesi, ne parlano gli americani, è organizzare le playlist. Perché voi potete avere una playlist virale. Cioè se voi andate nel mio canale, io ho X-Mandre, Best Shorts e Top Shorts X-Mandre. Queste playlist mi fanno da 105 mila visualizzazioni. Quindi ci sono canali che hanno playlist virali che se voi chiedete di mettere il vostro video nella playlist vi chiedono soldi. Perché mettere un video in una playlist virale è come se vi aiuta a boostarvi il video. Quindi io questo ce l'ho. Ecco perché alcuni si chiedono ma come mai ha tanti iscritti ma ha pochi visual. Perché le mie visual non sono nei video caricati oggi ma nelle playlist. Quindi io quando metto un video in una di queste playlist mi dà visual totali. Quindi io sto raggiungendo i 2 milioni di visual e alla fine dell'anno sarò a 10 milioni di visual. Perché ho una playlist virale. Ecco il segreto che non vogliono dire. Cioè voi dovete avere una playlist virale. Quindi è la playlist che ha un titolo accattivante, copertina accattivante, tag accattivanti e tutto quanto. Quindi mettete i video lì e avete più possibilità di crescere su YouTube. Penso che il mio audio sia basso quindi io aumento adesso. E quindi un altro segreto è organizzare la home page del canale. Perché è come mettere le tendine a casa. Perché metti le tendine giuste, il quadro giusto, il mobiletto lo metti là, la sedia la metti là, vuoi i muri dipinti in un certo colore. Stessa cosa è la home page del canale. Quindi una buona home page diventa accogliente per gli spettatori. Io vedo home page che non sono accoglienti. Ed è un altro dei punti sottovalutati. Come è sottovalutata la playlist, è sottovalutata la home page. Quindi almeno una buona home page deve essere organizzata in tre categorie. Cioè deve avere almeno tre playlist, una dei shorts, o almeno gli shorts si devono vedere, o il trailer del canale. Poi deve avere la playlist dei video più virali, e la playlist degli shorts più virali, e poi la playlist dei video caricati. Almeno tre playlist importanti che fanno capire agli iscritti dove si stanno scrivendo. Poi quando fai il video dai del tuo meglio, e non arrenderti, e non ascoltare troppo le critiche comunque. Perché YouTube è come una maratona, quindi devi raccogliere le energie per migliorarti nel tempo, negli anni. Un buon canale di successo si può vedere ogni cinque anni. Quindi inizia a breve termine, poi dopo cinque anni diventa medio termine, poi a lungo termine non lo sappiamo. Va bene? Quindi i video sono più importanti della home page, del canale, perché è come un flyer. Quindi deve avere la thumbnail giusta per invitare, poi a iscriversi. E quindi deve organizzare il canale in maniera che ci siano video che invitino la gente a entrare in casa. Quindi le tendine sono queste, quindi la home page e anche le copertine dei video importantissime. E organizzare il canale in playlist. Quindi un altro segreto importantissimo è organizzare il canale nicchie. Quali sono le nicchie che ti portano più successo? Per esempio io il nuovo corso che voglio affrontare, stavo pensando di apply si dice in inglese, cioè di iscrivermi, parla delle migliori nicchie e le più monetizzabili. Perché ci sono nicchie che ti fanno guadagnare di più, più successo, più iscritti, più sulle. Quindi il corso che volevo fare parla di questo, delle nicchie di più successo. E quindi come creare dei contenuti on fire? Perché quando ti hai una nicchia forte, allora il video ti diventa on fire. Cioè più esplosivo, cioè adesso si dice virale, però questo nuovo termine che sto sentendo si dice on fire. Quando vedete un video virale c'è scritto nei commenti che è on fire, è on fire, è on fire. Quindi le musiche anche possono essere on fire, i contenuti, la nicchia. E poi c'è una domanda che ti devi chiedere, come quando compri un libro o vai a vedere un film e ti sembra che non lo vuoi finire, cioè apri il libro ma poi non lo finisci, guardi il film ma poi esci dal cinema, accendi il programma ma poi spegni la televisione. Perché non ha catturato il tuo interesse? Cosa ti ha fatto annoiare? Stessa cosa vale per YouTube. Quindi ci sono le nicchie di vlog, news, sport, spettacolo, videogames. E se non sei comunque una persona, un vipo, una star, questo non è molto importante per YouTube. Perché tu devi creare dei contenuti di valore nella tua nicchia. Che può essere una micronicchia, una macronicchia, è come un laghetto. E' molto campiano diciamo YouTube. Tu sei in un laghetto, poi esplori le nicchie più di successo e il tuo laghetto può diventare un mare di gente. Perché così 3 miliardi di persone guardano tutti i giorni YouTube. Quindi hai anche le top 10, che sono un altro segreto, cioè fare video di top 10, top 10 delle notizie, top 10 dei video più divertenti, top 10 delle ragazze più belle, top 10 dei migliori attori, top 10 delle migliori scene di calcio, top 10 dei migliori libri, top 10 delle migliori cose da imparare e così via. Questo porta molto interesse. Attualmente nel 2003 ti potrebbe boostare il canale, cioè trovare il trend jacket, si chiama. Cioè cosa vuol dire? Che tu vai talmente a fare dei video interessanti, che la gente sta cercando perché poi vai a usare Google Trends, e anche il motore di ricerca stesso di YouTube ti consiglia i trends, questo ti può fare allargare davvero i tuoi confini. Comunque è una cosa bella. E quindi connetterti con più persone, avere una comunità grande. Ricordiamoci che questo corso non è per ottenere un milione di iscritti, ma per ottenere mille iscritti veri. Perché tu puoi avere un milione di iscritti, ma non vuol dire tanto. Vuol dire invece con mille iscritti veri, come se siano dei veri fan, veri che sono interessati a te, veri seguaci, come se tu sei il loro incoraggiatore, perché ci sono anche questi contenuti motivazionali, o contenuti come migliorare la relazione amorosa, di psicologia, o come cucinare meglio, le top 10 dei cibi, via di scena. E quindi ottenere mille fan veri. Ecco, quando hai fatto quello, allora hai una vera community che ti sostiene, nonostante che fai il video brutto, il video bello, ti sostengono lo stesso. E ti incoraggiano a continuare. Poi abbiamo la settima C oggi, perché abbiamo detto che ci sono sette C, perché voi, facendo un corso del genere, portate strategia al canale. Avete una buona strategia. E le ripassiamo. La prima C è il coraggio di caricare. La seconda, la chiarezza della mente di cosa voglio. Se sono anche orgoglioso di caricare il video oggi, se lo guardo fra dieci anni, il video oggi, mi rende fiero o mi vergogno del video? Questa è un'altra domanda che dovete fare. Quando fate il video, fra dieci anni, vi rende orgogliosi? O vi vergognate del video che avete fatto? Quindi spero per voi che ne siate orgogliosi. E comunque anche quando tenete dei certi numeri, no? Non è che anche i grandi seguaci, i grandi leader del mondo, perché adesso Washington, il generale Washington, Abramo Lincoln, aveva il loro zoccolo duro. Non è che aveva un milione di persone. Quindi noi non è che siamo il generale Washington e Abramo Lincoln. Siamo delle persone che caricano dei video. Quindi abbassiamo anche la cresta. Perché comunque ci vogliono anche una certa umiltà. che quindi al massimo 500 iscritti veri, 1000, ok, abbiamo 20.000 iscritti, ma quanti sono veramente interessati? Sei fortunato se ne hai 1000, insomma. Di questo stiamo parlando. Non è che avere 300.000 iscritti, ma poi 290.000 non gliene frega niente. Magari 10.000 veri iscritti. Magari. Di questo si sta parlando. Ok, invece la terza C è il canale. Il quarto C è i contenuti, cioè il tipo di contenuti che stiamo caricando, che devono essere importanti. Quinta C la community. La sesta C il cash. Cioè ci vuole un ritorno comunque. Che non stiamo solo parlando di monetizzazione, stiamo anche parlando di ricchezza personale, ricchezza spirituale. La ricchezza non sono solo i soldi, che è tutto quello che porta all'abbondanza, la chiarezza, sentirsi meglio, sentirsi soddisfatti, sentirsi che stiamo andando nel sentiero giusto. e quindi ottenere la settima C di cui parliamo oggi, che è la consistency. Cioè, voi dovete trovare un equilibrio tra consistency, cioè caricare costantemente, costanza, e alta qualità. Perché alcuni, appunto, ne ho parlato prima, è come se carichi, hai un ristorante, hai una bella torta, ma è una torta, invece hai un altro ristorante, che fai mille hamburger, 500 hamburger, ma buoni hamburger, non un hamburger che li butti alla mondezza. Comunque, devi ottenere una buona qualità, quindi devi equilibrare la costanza, con la qualità. E trovare l'equilibrio, tra queste due. La C della consistency, e la Q della qualità. Perché comunque, la qualità è più importante, della quantità, una cosa che si sa ormai. Però, se tu hai solo un video di qualità, un altro canale, che ne ha 500 di qualità, insomma, si vede, c'è anche matematica in questo. E quindi, se tu fai tutte queste cose qua, anche le altre C, YouTube diventa, come il programma preferito, che vuoi vedere tutte le puntate. Quindi, i fan, i 500 fan, ti guardano tutti i video, non ti guardano un video, come succede a quelli che buttano i video così. Quando c'è una ottima strategia, i fan vogliono vedere tutti i video. e quindi hai, totali visual, in tutto il canale, e non solo, nei video, caricati. Quindi, anche nel gruppo Telegram, qualcuno ha detto, ma come fa a avere tanti iscritti, poche visual, perché le mie visual, vengono da playlist virali. quindi io sto per raggiungere 2 milioni di visual, a fine dell'anno ne avrò 10 milioni, sono dei numeri, comunque che vi fanno capire, che la strategia che applico io, funziona. Che non è una strategia inventata, ma è una strategia presa dai migliori corsi, che io ne ho fatto solo uno, ne ho fatto tanti, ho anche letto vari manuali, i migliori manuali su YouTube. Quindi ho fatto tutto un compendio, e organizzato in italiano. E il valore di questo corso è di 10 mila euro, perché se voi andate nell'università, che fa social media managing, come questa, vale 10 mila euro. Io ve la sto dando a titolo gratuito, perché è una mia grande passione. Quindi, quando tu fai tutte le 7C, YouTube ti diventa come il tuo programma televisivo. Cioè, ottieni dei veri fan, che vogliono vederti tutti i video, e quindi questo ti rende un canale di vero successo. E poi magari hai una playlist virale. Qualcuno nel gruppo Telegram si è chiesto come mai io non ho tante visual nei video pubblicati, perché le mie visual vengono da veri iscritti, che mi seguono negli anni, anche da altri canali. E comunque anche una playlist virale. Quindi le mie visual sono in tutti i video, e non nei video caricati oggi. Quindi io sto raggiungendo 2 milioni di visual, e a fine dell'anno ne avrò 10 milioni di visual. Capito? E fra 5 anni saranno 50 milioni di visual. Mentre voi, nel vostro canale, comunque fate dei bei video, ma sono pochi. Sono di buona qualità, ma pochi. Voi dovete fare tanti video di qualità. E organizzarli in playlist spirali, e usare le 7C, di cui parlo nel corso. E comunque volevo spiegarvi anche questo fatto. Perché se voi andate all'università a fare un corso di social media manager, adesso ha il valore di 10 mila dollari. Quindi io vi sto facendo i migliori corsi che ci sono in inglese, ve li sto traslando in italiano. Capito? Quindi dovete essere abbastanza... Siete fortunati, insomma, che avete trovato uno come me che vi sta traducendo i migliori corsi. Anzi, volevo iscrivermi al migliore che c'è adesso nel periodo. E quindi, un buon iscritto, come si comporta? Lealtà? Fiducia? Momentum? Cioè, cosa vuol dire? Aspetta il tuo video. E quindi c'è una nuova parola, che è emersa anche nel dizionario, che è hype. Cioè, cosa vuol dire? Il vero fan aspetta il tuo video con ansia, quasi. È come se si aspetta il tuo video. Ma dov'è il video? Capito? Se avete quei fans lì, il vostro canale è sulla strada giusta. E comunque devi avere anche un buon calendario, una buona schedule. Cioè, cosa vuol dire? Non è che YouTube ti deve portare a te, poi diventare una... troppo stanco. Comunque c'è anche il... il burnout. Il fantasma del burnout, quando fai video su YouTube. Quindi devi avere un equilibrio. qualità, consistency. E poi la tua vita, perché anche quello è un altro segreto. Cioè, se tu non hai una vita ottima, com'è fai ad avere la creatività? Quindi ho fatto un video dove vi spiego le dieci migliori abitudini per iniziare a avere una buona vita. Poi, dopo una buona vita, potete dedicarvi a un buon canale. Che però, ragazzi, ci vogliono questi segreti. Sennò, non si va da nessuna parte. Ciao, alla prossima.